14 agosto del 2018 è una di quelle date che non dimenticherò mai, come a me e molti altri. In qualche modo avrei dovuto collaborare fattivamente alla ricostruzione di questa ferita. Noi abbiamo impostato tutte le attività a ciclo continuo, H24, 7 giorni su 7. La costruzione del nuovo ponte di Genova è una responsabilità enorme che chiama le imprese coinvolte, le istituzioni, le donne e gli uomini al lavoro ad unirsi alla comunità di Genova. Per ricostruire insieme un'idea di Italia che guarda avanti, che sa fare e che sa fare bene.